74 miliardi rotti sono una cifra che va sul green, che non vuol dire al Ministero dell'Ambiente, vuol dire in modo trasversale a tutto il sistema green, ma sono anche di più, perché c'è un altro principio che attraversa i 209 miliardi che si chiama do not harm, cioè non danneggiare l'ambiente. Quando tu fai un progetto che non sia green, magari che si occupi di altre cose, non devi danneggiare l'ambiente, quindi è molto più di 74 miliardi. Detto tutto questo, i progetti sui quali noi ci stiamo orientando sono sempre progetti che abbiano pochi elementi ma molto chiari, estrema concretezza e territorialità. Non voglio il progetto che sia la cattedrale nel deserto del green che non coinvolga i cittadini. Per me il cittadino è l'attore principale di questa rivoluzione che il Green Deal ci pone sul piatto. Se noi trascuriamo il cittadino vuol dire che noi abbiamo fatto un errore enorme, che è quello di non accettare il cambiamento, invece noi dobbiamo spingerci verso il cambiamento. Quindi i progetti che io sto proponendo sono progetti di cantieri verdi, di cambiamento per esempio del sistema di vivere nelle città, mobilità sostenibile, forestazioni urbane. Poi ci sono anche altri cantieri, altre cose che io voglio, il dissesto idrogeologico, l'erosione delle coste. Perché? Perché tutto questo coinvolge la vita di ogni cittadino nel suo concreto e anche quello che riguarda poi l'economia circolare.